Ciao ragazzi, bentrovati. In questo video parliamo un po' della fiabba e delle caratteristiche di questo genere, che è un genere molto antico, molto importante. Nasce come una tradizione orale di racconti brevi, con caratteristiche ben precise, rivolti a bambini e ragazzi. Questo genere è stato analizzato da un famoso studioso russo, che è Vladimir Prop, e vedremo proprio attraverso i risultati di queste ricerche svolte da Prop quali sono gli elementi delle fiabbe tradizionali. Prop infatti si occupò di studiare soprattutto le fiabbe russe e le fiabbe europee in generale, quindi fiabbe diciamo classiche, che presentavano e presentano tuttora, se le vediamo anche attraverso film Disney, trasposizioni cinematografiche, eccetera, presentano una serie di elementi ricorrenti. Nel 1928 questo Vladimir Prop pubblicò un libro importantissimo, che è Morfologia della fiabba. Morfologia vuol dire proprio lo studio, l'analisi della forma, quindi di come è composta e strutturata una fiabba. E si soffermò proprio su tutti quegli aspetti ricorrenti, cioè che tornavano molto spesso, in fiabbe molto diverse fra loro, sia per origine, luogo d'origine, sia per epoca di composizione. Cioè, Prop si rese conto, leggendo, analizzando decine, centinaia di fiabbe, che c'erano una serie di elementi fissi, elementi che tornavano molto molto spesso, a prescindere dall'epoca e dal luogo di realizzazione di queste fiabbe. Partì ad esempio dalla struttura che hanno i racconti fiabbeschi. I racconti fiabbeschi partono da un cosiddetto esordio, cioè la situazione di partenza, la situazione iniziale. Dopodiché c'è una complicazione, ovvero si rompe l'equilibrio iniziale, quella che è la situazione dell'esordio, cambia, muta, si trasforma, è ciò che dà l'avvio al meccanismo narrativo, e arriviamo così alla terza fase. La terza fase è quella dell'avventura propriamente detta, del viaggio, delle peripezie dell'eroe o dell'eroina, insomma, del protagonista. Una serie di vicende, di avvenimenti, che costituiscono proprio il grosso dello svolgimento della fiabba vera e propria, e poi si arriva, quarta e ultima fase, al finale, alla conclusione. E la conclusione, nelle fiabbe classiche, generalmente è costituita da un lieto fine, quindi da una risoluzione felice del conflitto alla base della storia, alla base del racconto, e poi molto spesso dal matrimonio fra l'eroe e la principessa, o fra l'eroina e il principe di turno. Proprio perché la fiabba, soprattutto nella sua veste classica, nella sua veste tradizionale, doveva concludersi con la realizzazione, la maturazione del protagonista o della protagonista, che, diciamo, si realizzava, appunto, attraverso il suo posto nel mondo da adulto o da adulta, e quindi il suo ingresso in società attraverso il matrimonio. Ricordiamo che le fiabbe appartengono a società e culture molto antiche, in cui, in sostanza, la base della società, del ruolo sociale dell'individuo era poi la famiglia, per questo quel e vissero sempre felici e contenti corrisponde al matrimonio, che, come dire, è il principale esempio di lieto fine di molte, molte fiabbe che conosciamo. Dopo aver parlato di queste quattro fasi nella struttura di una fiabba, parliamo dei personaggi. Nelle fiabbe, nelle fiabbe classiche, i personaggi possono suddividersi in categorie, secondo Prop, cioè dei ruoli specifici, in cui varia l'identità del singolo personaggio, ma il ruolo più o meno rimane quello. Allora, Prop ha individuato, dicevo, otto grandi categorie. Intanto, l'eroe o l'eroina, insomma, il protagonista, la figura principale, nelle fiabbe è quasi sempre un personaggio molto giovane, che deve affrontare una maturazione, che deve affrontare delle sfide. La fiabba si pone come una sorta di racconto di formazione, cioè un racconto in cui un personaggio abbandona la sicurezza familiare, o comunque abbandona la sua situazione di partenza, affronta degli ostacoli, supera delle prove che segnano la sua maturazione verso l'età adulta. Al protagonista si contrappone in molte, molte fiabbe un classico antagonista, il villain, si dice in inglese, cioè il cattivo o la cattiva, comunque il personaggio che per suo ruolo, per sua funzione, ostacola l'antagonista. Abbiamo poi il mandante. Il mandante è quel personaggio che affida al protagonista una missione che gli dà un incarico, che può, come dire, indurlo, indurla ad abbandonare la casa, la famiglia, la sua situazione di partenza per intraprendere un viaggio, un'avventura, eccetera. E molto spesso il protagonista può avere un aiutante o degli aiutanti, cioè un personaggio o a volte più personaggi, che lo affiancano, la affiancano nella sua avventura, nelle sue peripezie. Alla figura dell'aiutante spesso si affianca quella del donatore. Il donatore è un personaggio abbastanza simile all'aiutante, ma ha un compito ben preciso, ovvero quello di fornire al protagonista un oggetto magico o comunque un oggetto utile per superare la sua avventura. Infatti molto spesso il donatore è un mago o una maga, pensiamo alla fata smemorina di Cenerentola, a tante fate positive, insomma benevole, che aiutano i personaggi principali, o al genio della lampa di Adela Dino, per esempio il genio di Aladin, fiabba di tradizione araba, ma che comunque presenta molte caratteristiche simili alle fiabbe europee. Quindi il donatore è qualcuno che magari compare anche una sola volta in tutta la fiabba, ma è essenziale perché dà al protagonista o alla protagonista quell'aiuto importantissimo, fondamentale, poi per permettergli di superare delle prove. Questo aiuto può essere un consiglio, può essere un incantesimo, può essere un'arma, molto spesso è un oggetto magico. Insomma, il donatore è colui che letteralmente dona qualcosa al protagonista. Prop poi identifica la figura della principessa, o meglio del obiettivo, diciamo, dell'eroe. Abbiamo detto che il lieto fine nelle fiabbe tradizionali corrisponde molto spesso al matrimonio, corrisponde alla realizzazione sociale dei personaggi. E quindi c'è un elemento importante nel gioco dei personaggi, che è quello della figura da sposare. Laddove il protagonista è magari un principe, oppure un personaggio, pensiamo come Aladin, un personaggio che sta dimostrando di essere degno, dimostrando di essere all'altezza di una serie di vicende, ecco, il suo destino è quello poi di incontrare e sposarsi con la principessa di turno. In queste otto categorie standard di personaggi delle fiabbe individuate da prop, troviamo poi due categorie, se vogliamo, minori, un po' meno importanti, o piuttosto un po' meno frequenti, diciamo, all'interno delle fiabbe. Queste due figure sono il padre della principessa, o comunque, diciamo, il sovrano che è padre poi della persona che il protagonista o la protagonista andrà a sposare, e il falso eroe. Allora, il padre è quella figura che a volte appunto celebra il matrimonio, o comunque dà la sua benedizione all'eroe e al protagonista alla fine della storia. È, diciamo, la figura della generazione precedente, che incarna la generazione precedente, che dà la propria benedizione alla nuova generazione, quella dei protagonisti, dell'eroe e dell'eroina, o dell'eroe della principessa, dell'eroina e del principe, e così via. E quindi, in qualche modo, certifica la loro unione alla fine della storia. Può essere un personaggio, magari, anche che dà dei compiti all'eroe, o che cade vittima di qualche inganno. E poi abbiamo, possiamo avere, il falso eroe. Il falso eroe è un personaggio che tenta di sostituirsi all'eroe, di rubargli l'identità, o comunque di prenderne il posto di ottenere quello che dovrebbe essere invece il risultato dell'eroe. Pensiamo ad esempio, non so, alle sorellastre di Cenerentola, che tentano di sposare il principe, insomma, di ottenere questo matrimonio, che invece poi è il risultato, il traguardo, che andrà a tagliare Cenerentola. Queste otto categorie di personaggi, dicevo, non devono essere sempre presenti in tutte le fiabbe, anzi, raramente le troviamo tutte quante. Diciamo che il personaggio indispensabile in ogni fiabba è l'eroe o l'eroina, di cui abbiamo già definito le caratteristiche essenziali. Dopodiché possono esserci una differente quantità di personaggi. In alcuni casi, alcune di queste tipologie possono coincidere in un unico personaggio, ad esempio possiamo trovare un aiutante, che al tempo stesso è anche un donatore, oppure possiamo trovare un antagonista che è anche un falso eroe, cioè che prova a sostituirsi all'eroe o all'eroina. Possiamo avere fiabbe con una struttura più semplice, in cui magari compaiono soltanto il protagonista, l'antagonista, e pochissimi altri personaggi, e quindi non abbiamo tutte le varie tipologie. Insomma, in generale, nelle fiabbe, a seconda della loro lunghezza, della loro complessità, possiamo avere alcune di queste tipologie, in alcuni casi anche con più personaggi che ricoprono la stessa funzione, lo stesso ruolo, per esempio più aiutanti, per dire. Un aspetto importante di questi personaggi è che nella fiabba noi non troviamo figure molto complesse, non troviamo figure che a livello psicologico sono ben definite, sono sfumate o presentano contraddizioni, ma sono personaggi standard, personaggi che hanno poche caratteristiche ben precise, che li individuano, che li permettono di renderli perfettamente riconoscibili, ok? L'antagonista è un personaggio malvagio in assoluto, spietato in assoluto, non è un personaggio, come dire, realistico o a tutto tondo, o molto complesso. Stessa cosa per l'eroe, che avrà poche caratteristiche ben precise, non avrà tante sfumature caratteriali e questo vale anche per tutti i vari personaggi secondari, proprio perché la fiabba è un racconto semplice con una morale specifica da raggiungere attraverso la contrapposizione tra personaggi buoni, il bene, e personaggi invece cattivi. Ma il contributo principale offerto da Prop in questo suo Morfologia della fiabba è rappresentato dalle cosiddette funzioni, quelle che sono conosciute come le funzioni di Prop o lo schema di Prop. Cosa sono le funzioni? Allora, Prop, analizzando queste fiabbe della tradizione culturale europea e non solo, ha individuato una serie di momenti ricorrenti, di situazioni narrative ricorrenti che troviamo in moltissime fiabbe, di azioni specifiche che vengono compiute molto molto spesso in tante fiabbe diverse. Questa galleria di situazioni, di azioni, di vicende, vicende che ritornano continuamente nelle fiabbe, lui le ha definite funzioni e ha cercato di classificarle, di individuarle, creando questo elenco di 31 funzioni messe più o meno nell'ordine cronologico in cui le possiamo trovare all'interno di una fiabba, che in qualche modo costituiscono la struttura della fiabba stessa, della sua trama. Allora, aiutandoci col testo di queste funzioni che troviamo per esempio sulla pagina Wikipedia dello schema di Prop, andiamo a vedere nella pratica quali sono, o perlomeno ad osservare, alcune delle principali di queste funzioni, di queste 31 funzioni di Prop. L'allontanamento, come abbiamo detto, la situazione di partenza, l'equilibrio deve essere rotto dal fatto che l'eroe o l'eroina è costretto ad abbandonare la sua famiglia, abbandonare la sua casa e a partire. Il divieto, un divieto, un obbligo che viene imposto all'eroe. L'investigazione, una ricerca compiuta. Oppure il tranello, quindi un inganno, un trabocchetto teso all'eroe. Il danneggiamento, un successo del cattivo, dell'antagonista, rispetto all'eroe. L'inizio della reazione, il modo in cui l'eroe, l'eroina, iniziano a reagire rispetto alle disavventure, alle difficoltà, al danneggiamento che hanno subito. La partenza, appunto. L'intervento del donatore, quindi come l'eroe incontra questo donatore e riceve il primo oggetto magico, riceve un aiuto di qualche tipo. Abbiamo, appunto, la lotta, lo scontro vero e proprio fra l'eroe e l'antagonista. Possiamo avere il ritorno dell'eroe, generalmente magari in incognito, sotto falsa identità, nella sua patria. Il salvataggio rispetto a un tranello, una difficoltà, un trabocchetto. Una prova da superare. La soluzione della prova. L'identificazione dell'eroe, laddove, per esempio, c'è un elemento di dubbio sull'identità dell'eroe e dell'eroina. L'identificazione è ciò che permette di smascherare il falso eroe. Infatti la vediamo come funzione successiva. La trasfigurazione, quando l'eroe viene pienamente riconosciuto, viene riconosciuta la sua identità. La punizione dell'antagonista e, come abbiamo già detto, il matrimonio, che corrisponde al lieto fine per eccellenza delle fiabbe. Quelle che abbiamo visto in questa panoramica, dunque, sono le 31 funzioni, cioè le 31 situazioni narrative e le 31 azioni ricorrenti, individuate da prop. Attenzione, perché non tutte le fiabbe devono avere tutte le 31 funzioni. Anzi, è molto raro trovarle tutte e 31, anche perché la fiabbe, abbiamo detto, è un racconto abbastanza breve, abbastanza semplice, e quindi una trama difficilmente contiene tante situazioni del genere. Però, praticamente, tutte le fiabbe classiche contengono un buon numero di queste funzioni, di queste situazioni narrative, di questi elementi chiave per costruire la struttura di una fiabba. In alcuni casi l'ordine può essere un pochino diverso rispetto all'ordine che ci ha presentato Prop, alcune funzioni possono quasi coincidere fra loro, però, in generale, diciamo, servono questi mattoncini, servono questi tasselli per costruire le varie fiabbe. E la cosa che hanno dato Prop, la particolarità del genere della fiabba, è che, a prescindere dall'epoca, a prescindere dal contesto culturale, geografico, d'appartenenza degli autori delle fiabbe, comunque questi elementi ricorrenti si trovano praticamente sempre. Le funzioni di Prop ci aiutano dunque a capire come mai tante fiabbe tradizionali si somiglino, presentino così tanti elementi di analogia l'una con l'altra. Ma, da un punto di vista contemporaneo, noi possiamo anche osservare come oggi ci siano diverse opere che giocano a mettere in parodia queste tipologie di personaggi della fiabba e queste funzioni di Prop. L'esempio più famoso è quello di Shrek, un'animazione che, in qualche modo, rivisita alcuni elementi ricorrenti delle fiabbe classiche, proprio perché queste funzioni possono essere mantenute ancora oggi, ma si possono rileggere e guardare con uno sguardo ironico e, appunto, trasformando la fiabba in parodia.